19 marzo 1994, Casal di Principe. Due killer uccidono con quattro colpi di pistola Don Giuseppe Diana nella sacrestia della chiesa di San Nicola di Bari, dove il parroco sta per celebrare messa. Don Giuseppe si è fatto conoscere nella Roccaforte dei Casalesi per il suo impegno contro la Camorra, esemplificato dalla lettera «Per amore del mio popolo non tacerò», diffusa a Casale nel Natale del 91 per sensibilizzare le coscienze contro il sistema criminale. Grazie per la visione! Grazie per la visione!